Quello rappresentato nelle foto è il famoso disco di Festo. Questo curioso reperto è stato riportato alla luce nel 1908, nell'isola di Creta. Tutt'oggi questo particolarissimo oggetto attira la curiosità di molti studiosi, infatti una delle sue caratteristiche più note non è solo la precisione con cui i simboli sono stati impressi sullo stesso disco, ma piuttosto perché tali simboli tutt'oggi sono totalmente sconosciuti. Nessuno ancora è riuscito a decifrarli. Essi non richiamano nessun'altra scrittura precedente o successiva al periodo della sua creazione. Il reperto fatto di terracotta presenta 45 simboli con un totale di 241 caratteri, ciò lascia pensare ad una sorta di scrittura sillabica e non alfabetica. Il segreto che custodisce questo misterioso alfabeto rimane totalmente sconosciuto.